L'oroscopo del mese di dicembre 2024 rivela importanti cambiamenti in arrivo per tutti i segni zodiacali, sia in amore che sul lavoro. Ecco le previsioni per i segni più fortunati e sfortunati nei prossimi giorni. Per l'ariete si prospettano incontri sorprendenti per i cuori solitari e momenti di complicità intensa per chi è in coppia. Sul lavoro la motivazione sarà alta, ma sarà importante non esaurire le energie. Il toro affronterà giornate complesse con decisioni difficili sia sul lavoro che in amore, mentre i gemelli godranno di un periodo positivo con opportunità da sfruttare sia nell'amore che nel lavoro. Il cancro è incoraggiato a lasciare il passato alle spalle e prepararsi per nuovi inizi, mentre il leone vivrà giorni sereni con ottime opportunità sia in amore che sul lavoro. La vergine avrà un mese positivo per completare progetti e consolidare il legame con il partner, mentre la bilancia dovrà superare alcune difficoltà in amore, ma potrà raggiungere obiettivi lavorativi prima delle vacanze. Lo scorpione potrà vivere momenti intensi in amore e mettere in evidenza il proprio talento sul lavoro, mentre il sagittario sarà incoraggiato a perseguire i propri sogni sia in amore che nel lavoro. Il capricorno potrebbe essere più riservato in amore, ma avrà un periodo di determinazione sul lavoro, mentre l'acquario inizierà il mese con il piede giusto sia nei legami sociali che nel lavoro. Infine i pesci saranno alla ricerca di nuovi stimoli e potranno rafforzare i legami esistenti o vivere nuove emozioni con progetti interessanti.